Il ministro delle corporazioni, sua eccellenza Lantini, e l'onorevole Biaggi inaugurano a Padova la sede provinciale dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, monumentale edificio che completa la nuova piazza Spalato nel quartiere centrale sorto sulle rovine di un vecchio e malsano quartiere, per merito della politica rinnovatrice del fascismo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS